Con Francesco Potenza dopo il 3-0 del Carpi su Lumezzane, debutto e gol dopo pochissimi minuti in C1, te la potevi immaginare una domenica del genere? No, sono contento per questo, quindi adesso dobbiamo pensare già a domenica che è una partita importante e quindi diciamo che questa è già andata, sono contento per questo. C'è il mister che Tototti ha stancato il terzino e poi tu lo hai stecchito di infilata, ce lo racconti questo gol che ha sbloccato? E' stato un rinvio di Cioffi, se non mi sbaglio, quindi Ale Cesca ha fatto passare la palla e quindi ho provato ad andare in velocità e quindi sono stato pure non fortunato però a crederci andare sulla palla. Dove può arrivare questo Carpi che dopo tre partite, meno di una decisione del giudice sportivo, potrebbe essere solo in testa della classifica? Ma guarda noi dobbiamo prima salvarci, quindi sono dei punti importanti per noi, ci dobbiamo salvare al più presto possibile e poi quello che viene dopo è tutto guadagnato. Domenica, a Pavia, che partita sarà? Ma come ripeto, ogni partita che facciamo è solo partite difficili, dobbiamo stare concentrati al massimo. Si è visto la Tritium, che è la prima, abbiamo vinto 4-0 e poi la seconda ha vinto contro... E ha vinto alla grande anche oggi a 6 punti. Quindi sono tutte le partite difficili e quindi dobbiamo stare concentrati. Grazie. Grazie.